Michele era un talento nella corsa. Non ho avuto il coraggio di dirglielo. La tua lesione non è curabile. Questi poveretti soffrono. La parola poveretti viene abolita per sempre. E noi giochi so belli che finiti. Per voi i giochi iniziano adesso. C'è, ci vuole il coraggio e pensavo ne aveste. Io ce l'ho il coraggio, dottor. Perché non c'ho le gambe. Un film di Marco Pontecorfo. Chi ha combinato? Mi vuole far giocare a pallacadestro. Inca, rossa, signori. Io la pietre non sembrava normale. Sono il più pericoloso. Una storia rivoluzionaria. Voglio organizzare dei giochi. Le Olimpiadi. Qui li vede. Andiamo a farci onore. Chi ha accese la fiamma dei primi giochi paralimpici. Loro non sono normali. Loro sono straordinari. Ammuso duro. Prossimamente. Rai 1.